Lo riconosco, titolo strong, very very strong, però io sono un cliente e da cliente posso recensire un prodotto? Posso reputarlo mediocre? Posso reputarlo piatto? Credo sia nel mio diritto, visto che sgancio il grano. Ho sbaglio, ho sbaglio, ne parliamo, parliamo di quello che è accaduto tra ieri dopo la partita Juventus-Geno, ma soprattutto avanti ieri se vogliamo il discorso legato a Tata Rusano. Perché ci sono un paio di cosette, un paio di robe che voglio proprio dirle, che voglio proprio dirle, appunto. Prima però, ragazzi, io insieme ad altri tre youtuber, il logo si rinnoverà perché da tre uomini in pallone siamo passati a quattro uomini in pallone, ma cagatine a parte, link in descrizione perché c'è questo secondo canale attivissimo ogni sera, dalle 23. Quindi, stasera, dalle 23, live, salottino, si parla di calcio, Marachelle, trash, sano trash. No, 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 il bello è che noi non facciamo trash a differenza della... e questa è la differenza. Vabbè, link in descrizione, mi raccomando, sul secondo canale passateci. No, il discorso è veramente, ecco, e mi ricollego, che su YouTube, magari su piattaforme di questo genere, anche in versione gratuita, tu puoi, tu sei uno che può usufruire di un servizio e se ti piace il trash, ti dai al trash, se ti piace qualcosa più legata, tu scegli. Come dice sempre il mio amico Prince, qui su YouTube, tu scegli, invece lì tu paghi e ti devi sorbire il trash, il trash, il trash, anche se non ti piace, anche se non lo vuoi, anche... te lo devi sorbire e basta. Perché veramente, oh, oh, veramente, quante volte starò a dire veramente, ecco, perché ormai sarà l'impostazione, sarà l'impostazione che, che viene adattata dal web, ma anche in tv, piace. Il trash pare che ormai sia diventato qualcosa di, di piacevole e credo che tutte ste Marachelle siano in parte volute perché, e adesso andiamo nello specifico, ieri poi, io non le vedo, io sulla Rai non vedo un cazzo, non vedo post partita, non mi interessa veramente nulla, mi vedo quei 90-95 minuti la partita, stop. Poi giustamente vai sul web, ti vai, informa, ogni pagina, 50.000 discussioni sulla Rai, allora mi incuriosisco, ma non me ne frega niente, infatti mi sono andato un po' a documentare. E vedere la Lollobrigida, Pieri, il mio violista, battibeccare in maniera proprio voluta per un rigore, il trash sul trash del trash. Arriva Pirlo, arriva Pirlo, ci buttano in mezzo anche lui, ti dice, oh, ma hai visto, tu che l'hai visto adesso il rigore, che ne pensi? Seppello giustamente dice, no, io non ho l'immagine qui, cioè, ma a che livello siamo? Cioè, ma a che livello siamo? Cioè, e Lollobrigida, ah, giusto, non me ne hai visto, cioè, ma che ste robe? Cioè, noi paghiamo, eh, noi paghiamo, non è, eh, noi paghiamo per ste robe qua. Cioè, e, attenzione, questo può anche andare bene, cioè, me lo posso fare anche andare bene, ma quello che è successo a Tatarussano, non l'avete visto o no? Quello è proprio grave, quello è grave. No, 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 là non c'è, no, ma può capitare, quello è grave. Ave, arriva questo, questo non si dice, ecco, faccio la stessa figura poi io, Barbina, arriva il signor Tatarussano, no, arriva là, sì, con una fascia, per carità, tutto quello che vuoi, ma là, cioè, quelli che sghignazzano, cioè, quello sta parlando, loro che sghignazzano, ah, ah, ma hai visto che faccia? Sì, poi Lolo Brigida che twitta, no, ma io mi riferivo a Pieri che stava fissando il tavolo, cose, ma anche se fosse vero, cioè, quello sta parlando, tu che cazzo sghignazzi, ma anche se fosse vero, voglio, 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 voglio essere ingenuo, voglio essere ingenuo, sono nato ieri, quindi sono nell'ingenuità più totale, cioè, ma che sghignazzi? Quello sta parlando che sghignazzi, cioè, ripeto, poi quando è andato via continuavano a sghignazzare, cioè, trash, ribadisco, questo è trash, il trash lo posso accettare su YouTube, su altre piattaforme, lo posso accettare, per carità di Dio, perché li scegli, li scegli, se ti piace, lo ricerchi, se sei alla ricerca di questo prodotto, te lo vai a prendere, lo attacchi, lo guardi in faccia e me lo prendo, ma se devo accettare ste robe in TV, faccio prima che, appunto, non le vedo, e infatti non le vedo, il problema è che nonostante io non le veda, tu non le vedi, paghi lo stesso, questa è la rabbia, questo è il discorso che non riesco a tollerare e ad accettare, per me, veramente, siamo, siamo all'orrore, siamo, siamo ai minimi, ai minimi storici, non lo so, fate voi, ditemi, ditemi un po' voi, tralasciando anche le stesse telecroniche, piatte, scialpe, soporifere, eh? senza, 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 quel passo, cioè, proprio, eh, fai prima a mettere muto, fai prima, cioè, io preferirei, giuro, non sto scherzando, non voglio esagerare, preferirei, proprio sentire solo, visto che non ci sono i tifosi, ma anche qualora ci fossero, preferirei sentire solo lo stadio, lo stadio, o quelli che pallano tra loro, i calciatori, magari quello che si sente, sarebbe molto, ma molto più interessante di sentire un Ibrahim Diaz, quello si chiama Ibrahim Diaz, Ibrahim Diaz, Ibrahim, è Ibrahim Diaz, ma nome a parte, che poi l'errore può capitare, per carità di Dio, nessuno è professore, nessuno è maestro, nessuno è, come si dice sempre dalla mia parte, nessuno nasce imparato, si dice dalla mia parte, nessuno nasce imparato, ignoranza go go, Achili, ignoranza Achili è bellissima, è ok, però proprio, ripeto, un cambio di tonalità, un piglio, cercare di intrattenere in qualche modo, zero, ecco, zero, riporto zero, e questo, questo dispiace, perché, perché, perché dispiace, punto, stop, e sono curioso di sentire anche la vostra, in merito a tutto ciò, fatemelo sapere sotto, nei commenti, siate buoni, siate calmi, siate cauti, senza esagerare, senza fomentarvi, lì, lì sei link, passate sotto nei commenti e mi dite, mi dite ad ogni modo la vostra, va bene? Un grande abbraccio e viva la Rai, viva la Rai, viva la Rai, sempre! Grazie!